Dopo l'inaugurazione della prima parte della darsena borghese di Fano che nei prossimi mesi vedrà altri interventi con un nuovo sottopasso nei pressi del ponte ferroviario che permetterà così di arrivare fino al faro del porto, c'è un'altra struttura che presto verrà valorizzata. Stiamo parlando dell'ex asilo Manfrini, struttura abbandonata in via Nazario Sauro. In questi anni il comune sta cercando di ottenere l'edificio visto che l'immobile appartiene attualmente al demanio. Abbiamo iniziato già da tempo un percorso per ottenere la proprietà, per arrivare ad ottenere la proprietà dell'immobile e conseguentemente poi ristrutturare tutto l'immobile, rifunzionalizzarlo e restituirlo alla città. Abbiamo avviato un nuovo percorso per utilizzare la legge del federalismo demaniale e culturale che permette di avere in proprietà per gli enti locali gli immobili del demanio a fronte della capacità di dimostrare da parte nostra un progetto valido di riqualificazione che sia in chiave di riqualificazione culturale dell'immobile e anche a fronte della capacità di dimostrare che abbiamo un progetto di fattibilità economico-finanziaria solido. Il nuovo progetto redatto dall'amministrazione verrà presentato ad una commissione composta dal Ministero dei beni culturali, dal demanio e dalla soprintendenza che insieme decideranno se concedere o meno la proprietà dell'immobile al comune di Fano. Abbiamo pensato un progetto di riqualificazione dell'immobile completamente pensato per una valorizzazione culturale per cui nel piano inferiore dell'immobile del Manfrini verrà realizzato un museo della marineria tanto desiderato, comunque tanto utile a questa città anche per la sua forte caratterizzazione legata al mare e al porto, appunto a questo quartiere. Nella parte superiore invece abbiamo pensato di realizzare uno spazio, una sorta di piccolo anfiteatro per conferenze, piccoli spettacoli, musica, l'utilizzo per i vari core della città sia per spettacoli che per le prove e comunque uno spazio che sia funzionale anche al museo della marineria al piano di sotto.